Perché davanti a Gesù non conta la razza, se siamo svizzeri, tedeschi, o cinesi, africani, rumeni, sudamericani, napoletani, calabresi, o del nord Italia, ma davanti a Gesù conta se abbiamo un cuore pulito, se abbiamo un cuore che ama Dio, se abbiamo rispetto per Dio. Alleluia Signore, perdona loro non sanno quello che fai, credi in Gesù, libero, credete nel Signore Gesù ragazzi, Gesù vi vuole salvare, Gesù vi vuole illuminare, Dio mio, sono tempi come sono me con voi, Gesù.